Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È pronta la squadra di governo di Porto Sant'Elpidio guidata dal sindaco Massimiliano Ciarpella che ha presentato i suoi cinque assessori. Dopo giorni di ipotesi e previsioni, ecco la giunta con Andrea Balestrieri, il consigliere più votato, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che sarà il vice sindaco ed avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla difesa della costa, decoro urbano e manutenzione, cimitero, protezione civile e rapporti con i quartieri. Enzo Farina si occuperà di sicurezza urbana, polizia locale, trasporti, sport, tempo libero e cittadinanza attiva. Marco Traini avrà il bilancio, le politiche sociali, della famiglia e della casa e si occuperà della digitalizzazione. Le due quaterosa sono dell'assessore al lavoro, commercio, attività produttive, ambiente e transizione ecologica e politiche europee, Maria Laura Bracalente, mentre ad Elisa Torresi vanno le deleghe di turismo, cultura, politiche educative e scolastiche, politiche giovanili e pari opportunità. Volevamo dare subito un segno di cambiamento, di novità e quindi partire subito con gente valida, motivata, capace e competente è il modo migliore per iniziare questa avventura amministrativa. Le figure in giunta sono cinque, come sapete per limiti e vincoli normativi, però tutti coloro che hanno preso parte a questa campagna elettorale, tutte le liste che compongono la nostra coalizione saranno rappresentate o in Consiglio, o nella giunta o comunque anche nei tavoli tecnici, nelle consulte e negli osservatori che costituiremo nella città per favorire proprio quel rapporto fra eletti, fra il palazzo, fra la città e i cittadini e coloro che a Porto San Deppidio vivono, la abitano, ci lavorano o comunque la frequentano per motivi di studio, per turismo e quant'altro. Una democrazia partecipata che tenga conto del contributo di tutti si avvalga dell'esperienza di chi ha già operato in ambito amministrativo e tra le priorità ci sono l'ambiente di rifiuti che il sindaco vuole trattare in sinergia. Nel distribuire le nostre deleghe ai vari assessori abbiamo ritenuto di tenere insieme la questione dell'ambiente alla transizione ecologica legata anche alle politiche comunitarie, proprio per dare una visione d'insieme per affrontare questo importante tema in maniera sinergica, dove ci possa essere effettivamente un salto di qualità, si possa far fronte a tutte quelle che sono, non dico delle problematiche, ma delle questioni che vanno risolte nella città nel più breve tempo possibile. Per gli eventi della stagione estiva è difficile partire adesso, ma il sindaco Ciartella dice adotteremo quelle che sono le strategie che abbiamo in mente per rilanciare Porto San Deppidio sotto un profilo turistico, sotto molteplici profili che riguardano dalle iniziative, dalle manifestazioni, anche dagli eventi sportivi che caratterizzeranno la nostra città. È chiaro che per fare questo, in un momento in cui non c'è, sta da monte una programmazione, dovremmo fare uno sforzo ulteriore, dovremmo anche coinvolgere le associazioni di categoria, dovremmo coinvolgere e attivare sin da subito un tavolo tecnico per far emergere la nostra città sullo scenario locale, provinciale, regionale e non solo.